Il mini cooker De Danieli con una capacità vasca di 15 litri è la macchina da banco ideale per le gastronomie, i ristoranti, le pasticcerie, il catering. È versatile e semplice nell'utilizzo. Grazie al sistema di cottura De Danieli, che non genera incrostazioni alle pareti della vasca e facilita le operazioni di pulizia, i risultati ottenuti sono ottimi. A macchina preriscaldata inseriamo l'olio e la base per soffritto. Portiamo la temperatura a 160 gradi centigradi. Introduciamo il riso e lavoriamo a vasca leggermente inclinata per eseguire una tostatura ottimale. Aggiungiamo la carne Il radicchio Il vino bianco E riportando la vasca in posizione standard, continuiamo la cottura aggiungendo il brodo vegetale di tanto in tanto. Regoliamo la temperatura a 135 gradi centigradi e lasciamo addensare. Terminata la cottura aggiungiamo il burro, agendo energicamente sul variatore di velocità per incorporarlo velocemente e quindi il formaggio per la mantecatura. Il risotto è pronto per essere servito. Il risotto è importante